Il processo di rigenerazione urbana dell'Aquila si rafforza con la sottoscrizione del Piano Città degli Immobili Pubblici, un accordo firmato dal direttore dell'Agenzia del Demanio Alessandra Dal Verme e dal sindaco Perluigi Biondi. L'ex Caserma Rossi è il primo esempio, ma più in generale l'accordo mira a recuperare e riconvertire immobili pubblici non più utilizzati e renderli sicuri, accessibili, aperti e risolvere criticità di mobilità urbana per migliorare la qualità della vita dei cittadini. È un progetto di ripensamento degli immobili pubblici e degli spazi pubblici. Si parte naturalmente con il pezzo più importante che è quello della Caserma Rossi in virtù dell'accordo firmato nel 2017 con l'apporto fondamentale dell'Agenzia del Demanio che ha messo a disposizione la sua struttura tecnica in uno sforzo congiunto che vede un'importante amministrazione centrale dello Stato essere attenta alle esigenze del territorio, in particolar modo di un territorio come la città dell'Aquila che in mezzo ai tanti cambiamenti che subiamo fisiologicamente vuole imprimere anche cambiamenti che siano segno della capacità di ripensare degli spazi e rendere più fruibili e più utili alla comunità. Il primo portafoglio immobiliare riguarda 14 beni di cui tre del Comune ma è ampliabile oltre alla Rossi vi sono il Palazzo del Tarre e l'ex Scuola dei Amicis che è destinata a diventare un polo culturale. Tra gli immobili di proprietà del Comune ci sono invece il progetto Case di Sassa e quello di Coppito II e gli alloggi di Via di Vincenzo che saranno riqualificati per residenze universitarie, un centro di formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e nuovi alloggi per il Ministero della Difesa. Il piano avvia di fatto anche un tavolo tecnico che avrà il compito di individuare un set di indicatori per misurare, valutare e monitorare il valore economico, sociale e ambientale generato. Il piano città degli immobili pubblici è un piano volto a mettere al centro la pianificazione del territorio in coerenza con la pianificazione del territorio noi diamo il valore massimo alla rifunzionalizzazione degli immobili pubblici, quindi seguendo obiettivi e fabbisogni delle città.